Un po' più abbinano, ce l'hanno aperto un po' con la fessoretta lì che si vede. Sì, è più piccolo. C'è una pallina. Un po' più. Ma no, è questo Marino, cosa conti su un quadro adesso? È più grosso. Che fai a Bayer? Ok. Ah, è più piccolo. È più piccolo. Ho guardato su io già. Prima sverminazione. anche con la pasta quindi la pasta è lì 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 è lì